Sono Cesare Ferrari, dei grandi viaggi, ho partecipato anche io a questo evento di Italy Meets Outer California, è stata una cosa molto interessante perché abbiamo potuto vedere degli aspetti anche nuovi di questa regione, di Los Angeles stessa, con un lato culturale che spesso manca nella proposta turistica che i tour operator fanno di questa città, siamo andati a vedere il Getty Museum e poi anche altre interessanti cose che personalmente non conoscevo e quindi mi hanno dato la possibilità di approfondire meglio questa destinazione. Poi dopo questi due giorni a Los Angeles siamo scesi giù lungo la costa scoprendo anche Huntington Beach, una cittadina che adesso la vediamo in inverno, però si capisce che ha delle grosse potenzialità per il soggiorno mare, anche se è destinata più ai surfisti.